Sarà dedicata all'amore e alle sue infinite sfumature la nuova edizione di Fotolux, l'evento dedicato alla fotografia che si terrà dal 21 maggio al 12 giugno nelle location più belle del centro storico di Lucca. L'edizione della biannale propone un ricco programma di conferenze, workshop, incontri e 20 mostre con alcuni dei nomi più importanti del panorama internazionale, tra questi il fotoreporter Ferdinando Scianna. Tra gli appuntamenti più attesi la mostra Villa Bottini dedicata a Tinto Brass, oltre 100 foto che raccontano il suo percorso cinematografico con documenti inediti, sceneggiature e lettere provenienti dall'archivio personale del regista più censurato d'Italia. Le mostre saranno allestite a Villa Bottini, Palazzo Ducale, Palazzo Guinigi e nei locali dell'ex museo del fumetto in piazza San Romano. A Fotolux anche la mostra dei vincitori del World Press Foto 2021 e del vincitore del Romano Cagnoni Award. Il tema di questa edizione è stato scelto dal direttore artistico Enrico Stefanelli insieme al suo nuovo e giovane team formato da Rica Cerbarano, Francesco Colombelli e Chiara Ruberti. Il tema di questa edizione 2022 di Fotolux Festival sarà l'amore, il titolo infatti You Can Call It Love e abbiamo cercato attraverso la fotografia di raccontare tutte le possibili o almeno molte delle possibili declinazioni di questa parola e soprattutto di questo sentimento attraverso oltre 20 mostre e una serie poi di eventi collaterali, di incontri, dibattiti che affronteranno il tema dell'amore anche e non solo da un punto di vista fotografico.